Già per bastare un tempo, il parlamentare e il ministro del senore Giselle Macquellia hanno sostenuto Curaçao su Trasicortina e ha lavorato ora con il ministro dell'Economia e anche CITB per tracciare un progetto nel 2021 che è andato a enfocarlo per le parti verde, tanto per il riciclamento come per fare un scorso più bonito. E nemmeno di pensare che tanto CITB come il ministro dell'Economia come un prodotto turistico attrativo per il futuro, sosteneremo anche con il GIGZ cliente del centro di terapia Capriles Clinic, di un progetto che è iniziato 5-6 anni passi, ma non è solo da parte del governo, ma non è solo da parte. Il cliente non è stato fatto un anno diariamente per noi, per lavorare per il parco di limbi e per lavorare per aiutare la planta, per aiutare un nuovo progetto, ma non è solo da parte e siamo molto contenti per ristare il progetto nel 2021. Il cliente non è più o meno di 12 mesi, ma non è arrivato, ma non è solo da parte per la firma di CITB, è un convegno durante un anno, ci sono stati finanziari e ci sono anche per il progetto. CITB, ACHI